Ci si inventa di tutto per superare indenni i filtri dei controlli apprestati negli scali aereo-portuali e portuali dai finanziari del Comando Provinciale di Roma. All'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino è stata la corporatura pronunciata di una donna di origine boliviana proveniente da Santa Cruz ed in attesa di imbarcarsi per Istanbul a insospettire i militari che l'hanno sottoposta a perquisizione personale scoprendo l'occultamento all'interno della pancera indossata di oltre due chili di cocaina allo stato liquido contenuti in profilattici. Una volta giunta a destinazione la droga contenuta in 46 involti sarebbe ritornata al suo stato originale con un laborioso processo chimico di filtraggio. Stesso tentativo vano quello di un ovulatore congolese sbarcato nel porto di Civitavecchia proveniente da Barcellona intercettato dai finanziari della locale compagnia. L'uomo dell'età di 43 anni per superare i controlli predisposti presso lo scalo portuale aveva ingerito 34 ovuli contenenti circa un chilo di eroina ma è stato tradito dall'evidente nervosismo palesato durante l'attività delle unità cinofile che ha indotto i militari ad approfondire la situazione. Rimasta senza esito l'ispezione ai bagagli l'ovulatore è stato condotto a pronto soccorso del nosocomio di Civitavecchia dove è stato sottoposto ad esami radiografici che hanno rivelato la presenza di alcuni corpi estrani all'interno dell'addome. È stato necessario un delicato intervento chirurgico per consentire l'asportazione dei tre ovuli rimasti incastrati, gravemente deteriorati e ormai prossimi alla rottura. Grazie